Ed eccoci qui, iPhone 12 Pro Max un anno dopo. Mi sarò pentito della scelta? Era meglio puntare su un modello più compatto? Ha soddisfatto le mie aspettative? Ve lo racconto in questo video, un po' diverso dal solito e un po' più romanzato. Ricordo ancora quando provai tutti gli iPhone e dopo un paio di settimane decisi di tenere lui iPhone 12 Pro Max e puntare su di lui per una serie di idee e caratteristiche che in quel momento mi sembravano ideali per le mie esigenze. Ad esempio iPhone 12, che è anche l'iPhone che ho considerato in assoluto di più alle persone quando mi chiedevano quale iPhone acquistare della nuova linea, mi andava un po' stretto. Inizialmente la batteria non mi convinceva perché sì, riusciva ad arrivare anche a sera, ma un po' a fatica per i miei utilizzi molto intensi. Inoltre sentivo la mancanza della terza fotocamera, la tele comunque è una camera che io utilizzo spesso e poi il sensore fotografico è più grande rispetto sia ad iPhone 12 che iPhone 12 Pro. Questo praticamente si traduce sulla carta in qualche foto che dovrebbe essere leggermente migliore per quanto riguarda però la luminosità e la gestione appunto della luminosità. Praticamente però dopo un anno mi sono reso conto che non c'è un abisso tra una foto scattata con iPhone 12, iPhone 12 Pro e una con iPhone 12 Pro Max. In alcune condizioni mi sono reso conto che la fotocamera dell'iPhone 12 Pro Max ha lavorato meglio, ma questo giustifica un prezzo che è praticamente molto più alto rispetto a quello di un iPhone 12 o di un iPhone 12 Pro. Fondamentalmente quando scelsi l'iPhone 12 Pro Max lo feci sia per la fotocamera ma soprattutto per la batteria perché era l'unico iPhone che vi permetteva di arrivare a sera senza problemi. Ora però dopo un anno mi sono reso conto che il suo peso, che nonostante sia ben distribuito e le sue dimensioni generose e soprattutto l'utilizzo con una mano, mi incominciano a dare un po' di problemi e di fastidio. Infatti quando ho scritto su Instagram e molti di voi mi hanno commentato che probabilmente il mio prossimo iPhone sarà più piccolino, quindi una versione Pro e non Max, mi avete chiesto di creare un video come questo dove davo un po' di considerazioni a cuore aperto dopo un anno di iPhone 12 Pro Max. Non sto dicendo che mi sono pentito della scelta, anzi sono più che soddisfatto dell'iPhone 12 Pro Max, chi non lo sarebbe? Però mi sono reso conto che in alcune situazioni, soprattutto in estate, soprattutto durante i viaggi dove mi serve più praticità e comodità, le dimensioni generose del 12 Pro Max non mi sono proprio tornate favorevoli. Come sempre però ciò che amo di ogni iPhone ogni anno è la loro capacità di avere una fotocamera in grado di registrare dei video favolosi. In questo senso anche per la gestione dell'autofocus, calibrazione dei colori, risoluzione e quant'altro, beh, devo dire che iPhone è veramente imbattibile. E tutte le clip che avete visto, che state vedendo, questa che state osservando, sono tutte registrate con iPhone. Tutti i miei video sono tutti registrati con iPhone. E vi dico di più, se ci perdete un po' più di tempo a fare post-produzione, a gestire magari l'HDR, perché vi ricordo che con le varianti Pro potete anche fare e registrare video in HDR, allora veramente non c'è limite alle potenzialità. E l'iPhone 12 Pro Max, in tal senso, per me che amo tanto scattare sia foto ma soprattutto registrare video, è veramente stato fenomenale. Si è parlato poi molto del design dei nuovi iPhone, squadrettato, un ritorno al passato. E qui molti di voi si sono divisi, c'è chi non ha apprezzato questo design squadrettato e chi invece, come me, veramente l'ha apprezzato. Io trovo più facile avere in mano l'iPhone 12 Pro Max che l'iPhone 11 Pro Max, ad esempio. E li ho utilizzati entrambi per un bel po' di mesi. Quindi devo dire che questa differenza l'ho notata eccome. Spero che i nuovi iPhone, ma così dovrebbe essere, abbiano ancora un design squadrettato. Quindi per questo punto di vista, secondo me, Apple ha fatto una scelta giusta. In tante e tantissime occasioni ho preferito non portare con me una piccola fotocamera o videocamera, perché veramente con iPhone sono stato in grado di realizzare scatti molto molto buoni e anche registrare degli ottimi video. Quindi lasciamo anche stare che poi io utilizzo microfoni, treppiedi, quant'altro, per cercare di migliorare sempre di più la qualità audio e video di ogni mio video che avete visto in questi mesi e in questi anni. E dunque, lo ripeto ancora una volta, sotto questo punto di vista sono stato più che soddisfatto di iPhone 12 Pro Max. A livello di accessori ho sempre utilizzato una cover, utilizzo ancora la pellicola di vetro e la scelta da anni è sempre vincente. Quest'anno ho optato per una cover in silicone originale di Apple, ma ne ho provate tantissime altre di brand noti, come avete visto. E forse anche sulla cover ho qualcosa da ridire, perché dopo anni che avevo utilizzato quella in pelle, però non mi piaceva il fatto che la cover in pelle dopo un po' di tempo iniziasse a screpolarsi, a cambiare colore, comunque si vedeva che era consumata. Ho optato per questa in silicone, ma non mi ha convinto per un semplice motivo, fa molto attrito in tasca. E dunque anche per questo credo che nel mio futuro iPhone non prenderò più una cover del genere, probabilmente tornerò a una cover in pelle. Qui vorrei invece poi aprire e chiudere una parentesi, perché Apple, come ben sapete, e poi lancia degli accessori per completare il suo ecosistema. E come vi dicevo all'inizio del video, uno dei motivi principali che mi ha spinto a scegliere il nuovo iPhone è stata proprio la batteria. Batteria che mi permette di arrivare a sera senza problemi. Da un po' però è stato lanciato questo che vi ho anche già recensito, che è il MagSafe Battery Pack. E quando l'ho testato ho dato la mia opinione. Però mi sono reso conto che sia io sia tantissimi altri YouTuber non abbiamo veramente ben capito a cosa serve. Perché abbiamo tutti scambiato questo prodotto per un power bank. Ma in realtà questo ragazzi non è un power bank. Questo deve essere visto come una batteria aggiuntiva. Vi dico questo perché dopo sette giorni alle canarie dove ho sfruttato tantissimo l'iPhone per video, foto, chiamate, social. E quando avevo bisogno ho portato sia un power bank che il MagSafe Battery Case. Io non ho mai usato il power bank. Nonostante un utilizzo intenso mi bastava lui. Lui che se utilizzavo l'iPhone cosa succedeva? Stavo registrando, stavo scattando foto. Non era in grado di ricaricarmi la batteria. Però notavo che scendeva appunto la carica di questa batteria aggiuntiva. Quindi non so avevo l'iPhone al 30%. Non mi trovavo poi l'iPhone al 40% perché lo stavo utilizzando. Però mi iniziava a scendere la batteria appunto aggiuntiva. Quando poi riponevo l'iPhone in tasca, lui giustamente con la ricarica, vi ricordo, da 5W, riusciva a caricare lentamente il mio iPhone. Quindi il concetto, la base che voleva dire Apple, e non è che vi sto dando un power bank magnetico e vi sto dando una batteria in più per arrivare a sera senza problemi. Quindi deve essere vista come una batteria aggiuntiva, non come un power bank. Però tutto quello che c'era da dire poi sul MagSafe, Battery Case, io l'ho già detto nel mio video dedicato, quindi non mi voglio allungare. Ma ho voluto solamente fare questa piccola parentesi perché ho voluto precisare e anche un po' ricredermi sul concetto di Battery Case. È inutile poi parlare dell'integrazione con gli altri prodotti della casa madre perché comunque io utilizzo un iMac, l'Apple Watch e quant'altro. Tutto perfetto, ma questo riguarda il sistema iOS che è su tutti gli iPhone. Vi ricordo che iOS 15 sarà disponibile anche per iPhone 6S e modelli successivi, quindi un supporto incredibile da parte di Apple che anche un telefono di anni e anni fa ha ancora il supporto. Dunque in conclusione che voto darei a questo iPhone 12 Pro Max? Sulla carta meriterebbe il massimo dei voti, però per la mia esperienza di utilizzo si merita un 8,5. Il voto è in parte condizionato dal fatto che, come vi dicevo, per quanto riguarda l'usabilità nella gestione di una mano oppure comunque in tasca, quindi comodità, dimensioni generose, ecco qui non mi è piaciuto, ma lo sapevo già in parte questa cosa perché dopo anni che avevo un Max ho fatto anni con il piccino, poi sono tornato di nuovo al Max e mi sono un po' pentito per le dimensioni. Ma a parte questo, se avete delle mani grandi, se vi va bene il Max, cioè avete fatto una scelta ottima. Io non sono pentito della mia scelta, però forse posso dirvi che sarei rimasto ugualmente soddisfatto sotto ogni punto di vista, forse anche di più, con un 12 Pro perché era più ideale e vicino a ciò che io cercavo e volevo. Quindi non è stato bocciato, è stato promosso, ma con il fatto che mi sono reso conto che forse gli iPhone grandi non fanno più per me. Io concludo qui questa chiacchierata a cuore aperto, un po' di sfogo libero perché qualcuno di voi me l'ha chiesto, spero vi siano piaciute le mie riflessioni, anzi fatemi sapere se anche voi avete scelto un 12 Pro Max come vi siete trovato, oppure il contrario, magari avete un 12, un 12 Pro, addirittura un 12 Mini e volete passare a qualcosa di più grande, parliamone liberamente senza problemi, vi aspetto nei commenti qui sotto e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao!